Eccoci qua, buonasera! È stata una giornata ad alta tensione, doveva essere ad alta velocità, ma si è capito subito che le posizioni dalle due parti si sono irrigidite, parlo ovviamente delle due componenti della maggioranza di governo e tutto è stato più chiaro quando a metà del pomeriggio Conte, il Premier, ha parlato in conferenza stampa e a sua volta ha preso posizione. Ha spiegato di averlo fatto dopo aver analizzato tutto, dopo aver ascoltato i tecnici, dopo aver sentito le voci diverse. Fosse stato per me e fosse oggi il giorno in cui si comincia a parlare dell'opera, io sarei risolutamente contrario, ha detto Conte. E su molte cose ha fatto capire che l'analisi dei costi e dei benefici dell'opera affidata ai tecnici e poi al vaglio politico presenta più costi che benefici, di cui uno è intollerabile secondo il Premier, che l'opera costi all'Italia più che alla Francia. Ma ha detto non c'è solo l'aspetto tecnico, c'è la politica ed è la politica, quella politica che si decide. Ma bisogna aver presente che tutto il Movimento 5 Stelle si è ricompattato sul no all'alta velocità, alla TAV tanto per intenderci. E che dall'altra parte la Lega che è sempre stata fino a oggi pomeriggio altrettanto risoluta nel dire sì all'opera da questo pomeriggio. Da quando ha parlato Conte non ha più avuto nessuna uscita di nessuno dei suoi principali esponenti nel governo o nei gruppi parlamentari. Sono ore decisive. Dall'opposizione ovviamente si dice che la maggioranza non c'è più, il governo è andato a sbattere contro la questione TAV e da parte della Francia e dell'Unione Europea, della Commissione Europea si aspetta di capire se ci sarà davvero un confronto diretto nel quale l'Italia vorrebbe forse spuntare condizioni diverse o farsi dire forse da Parigi e da Bruxelles che a questo punto e con questi toni e numeri e con queste pretese l'opera non si fa più. Vi presenteremo fra l'altro un documento fin qui segreto che Bruxelles a quanto pare tiene nel cassetto per la fase decisiva del confronto, se mai ci sarà. Oggi però Draghi ha parlato della situazione nell'Eurozona e ha ridimensionato la Banca Centrale Europea le stime della crescita nell'anno fino all'1,1% complessivo nell'Eurozona e tra i problemi della zona dell'Euro, dei paesi nell'ambito dell'Unione Europea che hanno adottato la moneta unica c'è anche l'incertezza sulla situazione politica italiana secondo il Presidente italiano della BCE. Vedremo anche, avremo tempo per vedere due altri aspetti. A questione Navigator nell'ambito dell'applicazione del reddito di cittadinanza e c'è Maretta tra Stato e Regioni su attribuzioni, competenze e anche, non è ancora del tutto chiaro, il meccanismo della scelta dei 6.000 Navigator. Ma vedremo anche un video che apre il cuore alla speranza. È stato postato da una piscina e si vede Manuel Bertuzzo, il ragazzo che fu colpito alla schiena, ricorderete, alla periferia di Roma che è tornato a nuotare. 30 secondi i titoli. Con dei risultati delle nostre analisi i costi superano i benefici, ma nel governo ci sono anche posizioni diverse, va trovata una sintesi politica. Come ha certificato Conte, quindi le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle sulla Torino-Leone restano molto distante. C'è chi non esclude addirittura che questo possa portare a una crisi di governo. Il fuoco di sbarramento nel Movimento 5 Stelle è andato avanti per tutta la giornata e continua anche ora, perché in questo momento sta iniziando una riunione dei gruppi parlamentari con Di Maio. La Lega tace, mentre per le opposizioni i contrasti nella maggioranza certificano un governo al capolinea. L'Italia ha chiesto un incontro all'Unione Europea e Francia per approfondire le tematiche all'alta velocità. Parigi e Bruxelles sono per il sì all'opera e l'Europa ha un documento riservato che mostra come la Torino-Leone sia l'infrastruttura che nei prossimi dieci anni darebbe più posti di lavoro. Un'analisi che sarebbe stata firmata anche dalla società di Marco Ponti, il Presidente della Commissione che in Italia ha bocciato di fatto la TAR. Il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha annunciato nuove misure da parte di Franco Forte alla luce del rallentamento della crescita europea. La BCE manterrà i tassi invariati per tutto l'anno e effettuerà nuovi prestiti agli istituti di credito. Draghi ha inserito l'Italia tra le ragioni della crescita più lenta dell'Eurozona, che però non dovrebbe portare alla recessione. Sono attesi almeno 60.000 candidati per la selezione dei 6.000 navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca e nell'inserimento al lavoro. Per chi supererà la selezione è atteso un contratto biennale, ma c'è subito un botta e risposta tra governo e regioni che rivendicano le loro competenze in materia di politica del lavoro. Finalmente oggi sono tornato in Vasca, un'emozione bellissima. Così Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto ferito da un colpo di pistola nel quartiere romano dell'Axe, è rimasto paralizzato agli arti inferiori. Bortuzzo oggi è tornato in acqua per iniziare la terapia di riabilitazione e ha postato lui stesso il video che state in parte vedendo e che lo riprendo. Buonasera, è quindi stato il giorno che ha rotto l'equilibrio sulla TAV. Cosa è successo sostanzialmente? Che a posizione irrigidite delle due parti, come si è visto ieri fino alla notte inoltrata nel vertice di governo, ha fatto poi riscontro una presa di posizione in attesa per la sua chiarezza a riguardo da parte del Premier, che ha fatto capire nettamente e lo ha detto esplicitamente che lui sta più dalla parte del non fare la TAV. Ci sono più costi che benefici, ci sono degli elementi che assolutamente non sono convincenti e addirittura se il problema si ponesse oggi per la prima volta sarei risolutamente contrario. L'opera oltretutto, secondo il Premier, è anche invecchiata dalla progettazione ad oggi senza che sia neanche iniziata la realizzazione ed è un'opera che nel migliore dei casi sarebbe completata nel 2030. Ci ha messo ogni tipo di carico il Presidente del Consiglio pur restando possibilista perché ha detto che la decisione tecnica sarebbe facile, ma la decisione è politica e le parti politiche sono tante. Non sono allo Stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Giuseppe Conte si schiera con i 5 Stelle, TAV opera inutile, non ero né pro né contro, ma i tecnici mi hanno convinto, dice. Assicura però che nulla è ancora deciso perché la maggioranza resta spaccata su posizioni contrapposte. Da una parte c'è la Lega che è favorevole al TAV, dall'altra c'è il Movimento che invece ha delle contrarietà risposto a quest'opera infrastrutturale. Questo crea uno stallo, constata il Presidente del Consiglio, che rivendica la titolarità di un metodo e di un percorso ancora aperto, rilanciando la palla anche sul confronto con Francia ed Europa. Ci penserò io, assicura, elencando le ragioni del sì e con maggiore convinzione quelle del no alla TAV, opera già vecchia nella progettazione cui i consigli eviteranno di qui a dieci anni e oltre. Quando il sistema dei trasporti sarà più evoluto, magari con più convenienti camion e tira guida automatica, arriva a prefigurare Conte. E poi la Francia mette meno soldi di noi, anche questo va comunque ridiscusso. Il Presidente del Consiglio ha ricevuto nel pomeriggio Mario Virano, direttore generale della TELT, la società italo-francese responsabile della realizzazione della TAV. I bandi per l'opera devono partire lunedì, pena la perdita di 300 milioni di finanziamenti europei. Farli o fermarli, Lega e 5 Stelle pensano all'opposto, decideremo nelle prossime ore. Non stiamo affatto litigando, però siamo in uno stallo anche sui bandi, perché è evidente che chi chiede il differimento dei bandi rivendica come da contratto una integrale ridiscussione, perché è chiaro che se partisse lunedì il bando, come dire, quella integrale ridiscussione di quel contratto non ci sarebbe. E anche qui Conte affianca Di Maio, rivendicandone la maggiore coerenza con il contratto di governo. Governo che sopravviverà, sostiene, anche a quella che sembra una prova insuperabile. Escludo assolutamente che possa nascere da questo confronto serrato, schietto, franco, dichiarato, stiamo dichiarando espressamente le rispettive posizioni di Ceda, possa nascere una crisi di governo. Sarebbe assolutamente assurdo. Lo escludo. Sarebbe assurdo e lo esclude il Presidente del Consiglio, ma in realtà è difficile pensare a una decisione che vada in un senso o nell'altro e che possa vedere comunque una parte ovviamente felice perché la sua posizione è stata ratificata dalla decisione e l'altra che deve far finta di abbozzare. Non è uno scenario, neanche questo, facilmente immaginabile, ma quello che è sicuro è che se ci sono stati in passato scricchioli all'interno del governo, tutti hanno pensato, anche tutti i commentatori, che la ragione prevalente era quella comunque di andare avanti, anche per la convenienza di tutte e due le parti. Questa sera non è così chiaro. direi 5 Stelle, che i 5 Stelle utilizzeranno Conte per trovare un compromesso e non vogliono lasciare Palazzo Chigi a sentire la Lega. Finita senza decisioni la lunga notte del Premier e dei suoi vice con le squadre di tecnici Notav contro Sitav, i 5 Stelle mostrano la faccia dura. Al Senato si vota la mozione Lega 5 Stelle già passata alla Camera che impegna il governo a ridiscutere l'alta velocità nel rispetto dei trattati internazionali. e a nome del gruppo parla l'irriducibile Notav, Alberto Airola. Parliamo dello spauracchio sventolato continuamente delle penali. Vi voglio svelare un segreto. Non ci sono penali da pagare. Il tunnel non partirà aggiunge nel pomeriggio una lettera di Di Maio ai gruppi parlamentari che riunirà a partire dalle 19 ribadisce no, fermo alla TAV. Spiega che per fermare i bandi serve una decisione del governo per rivedere i trattati e un voto del Parlamento che però sottolineano gli stessi 5 Stelle metterebbe in minoranza il movimento e che sarà il governo a decidere. Lo confermerà alla stampa Conte. Prendo le sensibilità di tutti, però non sono stato eletto per bloccare, ma per sbloccare infrastrutture che la sinistra ha tenuto bloccate per troppo tempo. Salvini non si muove da questa posizione. Una nota del suo staff conferma che per la Lega i bandi devono partire, punto. E i fedelissimi sottolineano che la trattativa con l'Europa l'ha aperta il leader leghista telefonata con il finlandese Kaetainen e contatti con la Francia, paradossi della TAV, con l'impegno a far avere all'Italia condizioni migliori. Se davvero i 5 Stelle pensano che Salvini possa accettare la loro linea sulla TAV per timore di Berlusconi sono superficiali, si lascia andare una fonte di governo, mentre nelle file del carroccio in Parlamento sale la preoccupazione per le mosse decise degli alleati. E infatti è lo staff di Salvini a rilanciare le dichiarazioni forti di Zaia e Attilio Fontana, governatori di Veneto e Lombardia, che la TAV la vogliono, così come gli industriali del Nord che minaccia di scendere in piazza e il PD del governatore del Piemonte Chiamparino sul piede di guerra. La TAV più importante delle autonomie riguarda tutta l'Italia, gli investitori e anche il Sud, giura un fedelissimo di Salvini. Argomenti che pesano in queste ore concitate, monitorate anche da Mattarella, che al Consiglio Supremo di Difesa, con altra agenda, ha potuto incontrare i protagonisti. La Lega guarda conto e registra il suo allineamento a Di Maio e aspetta di verificare se la sua non sia un'ultima sponda all'alleato in difficoltà o il primo segnale che forse uno strappo sulla TAV potrebbe essere una buona bandiera per le elezioni che si avvicinano. Ma come ha detto il Premier Conte, che ha aperto, come abbiamo visto, tutta una serie di capitoli che cambiano completamente lo scenario politico non solo italiano, l'Italia andrà a bussare anche a Parigi e a Bruxelles per vedere se le cose possono cambiare, per farsi spiegare perché Roma paga più di Parigi per quell'opera, perché Bruxelles fa il tifo perché le cose vadano avanti in questo modo e perché non si dice che altri paesi, in Portogallo si cita sempre, hanno potuto fare a meno dell'opera senza dover pagare penali. Insomma, che succederà con la Francia e con la Commissione europea. Condivideremo i dubbi con la Commissione europea e con la Francia, la ricetta di Conte sulla TAV, ma sia Parigi che Bruxelles, sull'alta velocità a Torino-Lione, sembrano avere le idee molto più chiare del governo italiano e guardano con interesse e preoccupazione quanto sta succedendo a Roma in queste ore. Non a caso l'ambasciatore francese in Italia, Christophe Massé, è stato questa mattina a Palazzo Chigi. Ufficialmente non ha avuto un colloquio con Conte, assieme al quale però è stato visto nel cortile del Palazzo del Governo. Da Parigi, la Ministra francese dei Trasporti, Elisabeth Bor, ricorda che la Francia ha firmato un trattato con l'Italia che prevede la realizzazione del tunnel. La Torino-Lione è un progetto molto importante, spero che gli italiani ci diranno che realizzeranno il tunnel assieme a noi, si augura la Ministra, aggiungendo che la Commissione europea è pronta a salire al 50% del finanziamento dell'opera, dall'attuale 40%. Da parte sua, Bruxelles avrebbe pronta una lettera da inviare al governo italiano per sollecitare una decisione sulla Tav. Si tratta di un progetto fondamentale per l'Italia, la Francia e l'Europa, ha ricordato un portavoce della Commissione europea senza confermare l'esistenza del documento, ma ricordando che la posizione sulla Torino-Lione rimane la stessa, espressa nelle scorse settimane. E cioè, più passa il tempo e più è alto il rischio che la Commissione decida di tagliare i finanziamenti per la Tav, ricollocandoli ad altri progetti o che esiga dall'Italia la restituzione dei fondi già versati. Quanto alla ripartizione dei costi tra Italia e Francia, contestata da Conte perché sfavorevole al nostro Paese, fonti di Bruxelles ricordano che è parte integrante dell'accordo tra i due Stati, e cioè che l'Italia contribuisce per il 58% in quanto la Francia deve sostenere costi maggiori rispetto all'Italia per attrezzare gli accessi alla tratta ferroviaria nel territorio nazionale. Come dire, non c'è molto da ridiscutere. Se il Governo butta la palla in Europa, rischia di vedersela restituita immediatamente. Anche perché da Bruxelles ci sono altre munizioni, pare di capire, tra cui un documento che per ora non è stato estratto e che però è il frutto di, per quel che se ne sa, di un lavoro biennale da parte degli esperti della Commissione. Mentre vi devo dire che in questo momento, secondo l'agenzia ANSA, trapela la notizia di un incontro a Palazzo Chigi, che era già in agenda tra il consigliere diplomatico del nostro Premier, che è Piero Benassi, e il suo omologo francese per il Presidente Macron, Philippe Etienne. È un incontro di cui non si sapeva, ma che evidentemente ha a che fare sia col contenzioso complessivo tra Italia e Francia, sia con questa vicenda della Tav. Tra l'altro ci si era interrogati sul perché fosse presente l'ambasciatore francese questa mattina a Palazzo Chigi, si era detto incontro a Conte. No, ora si spiega il perché. Ma vi dicevo di questo documento europeo, di che si tratta? Ne siamo entrati in possesso. In questi giorni, nei cassetti della Commissione europea, giace uno studio riservato iniziato da due anni, da una trentina di ricercatori di varie nazionalità, che illustra l'impatto socio-economico e ambientale delle reti transeuropee, di cui fa parte il corridoio mediterraneo che ha come perno fondante proprio la Torino-Lione. La Commissione europea, forse per evitare di entrare a gamba tesa nel dibattito tra Lega e 5 Stelle, ancora non ha deciso quando presentarlo, ma noi siamo in grado di mostrarvelo. Il corposo documento, 116 pagine, uno dei tanti periodici che la Commissione richiede a società specializzate, ha una particolarità. Tra le società di ricerca che l'hanno redatto c'è la TRT Trasporti e Territorio, la società milanese dell'ingegner Marco Ponti, ossia quella che ha redatto l'analisi costi e benefici per conto di Toninelli, che ha bocciato la TAV, ma che ora vede il suo logo in un documento europeo ufficiale che invece la promuove. Lo studio è molto complicato, ma questi sono i tre punti più interessanti che rispondono alle domande che in molte si fanno in questi mesi. Da notare che i dati su cui si basa lo studio non sono vecchi, ma sono aggiornati agli ultimi scenari macroeconomici di trasporto e quindi poco attaccabili. Che risparmio di tempo si avrà con la TAV? Per il corridoio mediterraneo che va da Gibraltar a Budapest il risparmio è notevole perché si tratta di attraversare con la Torino-Lione la barriera naturale europea più complicata, quella che taglia fuori l'Italia, le Alpi. Il risparmio di tempo per i passeggeri è del 30%, per le merci del 44%. Quanto lavoro darà il cantiere della Torino-Lione negli anni della costruzione? Nei prossimi dieci anni, per ogni miliardo investito nel cantiere, si creano direttamente 15.000 posti di lavoro, ossia senza contare l'indotto che operai e dite diffondono sul territorio. Infine ecco la tabella che dimostra come, tra tutti i corridoi europei, quello della TAV, ossia quello mediterraneo, è quello che nei prossimi dieci anni creerà più posti di lavoro, 153.000, tra trasporti, turismo e sviluppo di aziende per nuovi mercati nei paesi interessati, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Un numero questo che esclude chi ha lavorato, chi lavorerà direttamente per la TAV. Questa è la situazione TAV, come avete visto ne abbiamo parlato in tutti gli aspetti perché è sicuramente di gran lunga il fatto principale della giornata, almeno per quanto riguarda l'Italia. C'è qualcosa che riguarda l'Eurozona e quindi anche l'Italia, perché era attesa la riunione del board della Banca Centrale Europea, al termine del quale Draghi ha parlato della situazione e fra l'altro ha anche spiegato perché le stime anche della BCE rispetto alla zona stessa, la zona composta dai paesi che aderiscono alla moneta unica, la previsione della BCE si è fatta meno fausta, all'1,1% di crescita di quest'anno. Pesa anche la situazione italiana. A frenare il prodotto interno lordo dell'Eurozona è anche l'incertezza dell'economia italiana. Parola di Mario Draghi, che al termine del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea annuncia le misure di politica monetaria decise oggi per stabilizzare i prezzi e fronteggiare così il rallentamento dell'economia nei paesi del vecchio continente che hanno adottato l'euro. Non è previsto alcun ritorno al quantitative easing, assicura il Presidente della Banca Centrale Europea, ma esattamente come previsto dai mercati finanziari, i tassi di interesse restano invariati. Il principale è fermo allo 0%. Poi, in una nota, l'Eurotower spiega che il costo del denaro rimarrà sui livelli attuali almeno fino al 31 dicembre di quest'anno e anche nel medio termine finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione resti su livelli inferiori ma prossimi al 2%. L'economia rallenta, ma nelle valutazioni della Banca Centrale Europea le probabilità di una recessione sono molto basse, sostiene Draghi. Ad orientare le scelte dell'Istituto Centrale, del resto, contribuiscono una serie di fattori esterni che vanno dal protezionismo alle incertezze intorno alla Brexit, a ciò che sta accadendo in Cina, fino all'effetto sempre più debole dello stimo di stimolo fiscale negli Stati Uniti. Quanto alle stime di crescita per l'Eurozona, il quadro dipinto dall'Istituto di Credito Centrale è a tinte almeno grigie, al punto da imporre una revisione a ribasso del prodotto interno lordo 2019 dal più 1,7% di dicembre all'attuale 1,1, da 1,7% a 1,6% per il 2020, mentre nel 2021 il PIL si conferma al più 1,5%. Stessa sorte per le stime sull'inflazione, che per il 2019 passa dall'1,6% all'1,2, perde uno 0,2% sia sul 2020 che sul 2021. Al fioccare di questi dati, le principali borse europee reagiscono chiudendo in ribasso. Milano, la peggiore, si ferma a meno 0,74%, giù anche Londra, Parigi, Madrid e Francoforte. In direzione contraria allo spread chiude a 240 punti base contro i 248 di ieri, con il rendimento del BTP decennale che scende al 2,47%. Richiamando all'attuazione trasparente e coerente del quadro di governance fiscale ed economica dell'Unione Europea, Draghi invita i paesi che hanno un elevato debito pubblico ad aumentare gli sforzi per ricostituire la solidità delle proprie finanze. Una chiara allusione all'Italia. È finito il secondo giorno di domande per il reddito di cittadinanza e, dice il Ministero del Lavoro, sono 92.094 le domande pervenute a poste italiane in questi primi due giorni appunto di avvio del reddito di cittadinanza. Di queste 15.909 presentate online e le altre 76.000 erotti ovviamente presso gli uffici postali. Ma riguardo al reddito si è aperta una piccola battaglia sul ruolo dei navigator che, come si dice, un po' scherzosamente ma neanche tanto, sono i soli posti sicuramente acquisiti per i 6.000 che dovranno fare appunto da navigatori per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e devono trovare appunto un'occupazione. I bandi pubblicati sono relativi solo all'individuazione delle aziende per la fornitura dei servizi connessi alla selezione degli eventuali candidati. La precisazione di Ampal Servizi arriva nel primo pomeriggio come a puntualizzare con le regioni ancora non si è giunti ad alcuna intesa e ci stiamo solo preparando a rendere il più veloce possibile la procedura di scelta dei 6.000 navigator. Coloro che, insieme ai 4.000 che verranno selezionati direttamente dalle regioni, avranno il compito fondamentale di accompagnare i percettori del reddito di cittadinanza nel percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. Quello riservato a chi? Circa un terzo del totale di coloro che da ieri hanno cominciato a presentare domanda di sussidio all'obbligo di sottoscrivere il patto per il lavoro. I bandi ai quali Ampal Servizi fa riferimento sono due comparsi oggi sul suo sito. Uno relativo alla ricerca di locali dove effettuare le selezioni, l'altro per l'affidamento del servizio di predisposizione test. test a risposta multipla per 60.000 candidati composto da un massimo di 100 quesiti su materie diverse, tra le quali cultura generale, logica, informatica, diritto del lavoro, oltre ovviamente alle regole del reddito di cittadinanza. Tutto questo però è solo propedeutico ai fini del reclutamento vero e proprio, ancora lontano in assenza di un accordo tra Stato e regioni che rivendicano le proprie competenze costituzionali in materia di politiche attive del lavoro. Temono inoltre le conseguenze derivanti dall'immissione in un sistema che già non brilla per fluidità come quello dei centri per l'impiego di 6.000 lavoratori selezionati con una inevitabile fretta non da loro ma da Ampal Servizi. Peraltro 6.000 precari, precari che per due anni avranno il compito di trovare lavoro ad altri che si sommano a 600 ulteriori precari, quelli che da anni lavorano proprio in Ampal Servizi e il cui contratto scadrà progressivamente nei prossimi mesi. Un groviglio notevole complicato dalla ristrettezza dei tempi e dalla necessità pratica di far dialogare in breve tempo le piattaforme informatiche che incrociano i dati tra domanda e offerta di lavoro. Una notizia sempre verde, verrebbe da dire. Silvio Berlusconi è indagato da parte della Procura di Roma per corruzione in atti giudiziari in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato che tre anni fa, il 3 marzo del 2016, annullò l'obbligo per lui di cedere la quota eccedente del 9,99% detenuto in Banca Mediolanum che era stata stabilita da Banca Italia. L'inchiesta è quella relativa appunto alle presunte sentenze pilotate dal Consiglio di Stato. Il procuratore aggiunto Ielo e i PM Rocco Fava e Tucci sospettano che quella sentenza su Mediolanum sia stata aggiustata. Prima di Berlusconi erano stati iscritti sul registro degli indagati tre nomi, quello del giudice, relatore del provvedimento, di un avvocato e di un ex funzionario di Palazzo Chigi e quello trovato nella disponibilità di soldi e documenti che centravano appunto con alcune sentenze. Da lì si è risaliti nell'indagine fino adesso al passo di oggi che vede appunto Silvio Berlusconi indagato. L'ipotesi di reato è quella di aver fatto aggiustare a suo favore appunto quella sentenza. Ma poi c'è un'altra notizia giudiziaria, ci sono nuovi indagati nell'inchiesta della Procura di Genova sul crollo del ponte Morandi. Si tratta di almeno 30 persone tra funzionari di autostrade e SPEA e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture che si aggiungono alle 21 persone già iscritte nel registro degli indagati oltre alle due società. Andiamo adesso a vedere una notizia, delle immagini, una voce che insomma ci danno una bella lezione. Manuel Bortuzzo torna in piscina a un mese da quell'agguato che gli ha cambiato la vita in testa la cuffia del suo amico, il campione del mondo degli 800 stile libero Gabriele Detti. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in barca oggi, è un'emozione bellissima e oggi inizia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. 32 giorni fa l'agguato armato stile Far West davanti al pub di AXA periferia di Roma con quel proiettile sparato da Balordi che colpisce una vertebra del giovane nuotatore venuto da Treviso per il suo sogno allenarsi con la nazionale. Abbiamo colpito per errore, diranno i due, arrestati dopo una fuga di quattro giorni. Ora sono in carcere con l'accusa di tentato omicidio premeditato e aggravato da abietti e futili motivi. Quel proiettile gli paralizza le gambe, gli spezza il sogno, lui che voleva diventare un campione del nuoto. Da subito la reazione del 19enne è stata di ottimismo e tenacia. Nessun vittimismo, solo voglia di ripartire. Il 18 febbraio è stato trasferito dal San Camilo dove ha ricevuto le prime cure all'istituto specializzato Santa Lucia dove ha iniziato la riabilitazione. Oggi per la prima volta ha fatto il bagno in vasca e ha voluto postare il video sui social. Un messaggio col sorriso sulla pagina Facebook tutti con mano e il video ha raccolto finora 12.000 like. È il terzo messaggio pubblico che il ragazzo manda dopo quella notte. Mai una frase di odio, di risentimento nei confronti dei suoi aggressori. Solo speranza e voglia di farcela. L'acqua è la mia vita, dice, e davanti alla piscina questo è il mio nuovo campo di combattimento. Voleva diventare un campione, ma in fondo un po' lo è. La sua sfida continua. Dopo di noi a otto e mezzo Lili Gruber ospita Luca Telese, Augusto Minzolini e Lugio Caracciolo. Poi è giovedì, è il giorno di piazza pulita e tra gli ospiti Corrado Formigli ci sono Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Gad Lerner e Filippo D'Averio. Ci fermiamo. Allora della Borsa di Milano abbiamo già visto prima nel servizio economico, c'è solo da parlare di New York, a Wall Street indici in negativo, meno 0,73 per il Dow Jones, più pronunciato meno 1,07 per il Nasdaq. È tutto, Gruber, Formigli ci vediamo domani sera, buonasera.